Primi problemi politici per la maggioranza al comune di Teramo. Luigi Ponziani, fedelissimo del sindaco d'Alberto, rassegna le dimissioni d'assessore alla cultura dopo 15 mesi. Senza soldi e senza personale lui non se la sente proprio di continuare. Il primo cittadino ha tentato in ogni modo di dissuadere Ponziani dalla decisione di lasciare la giunta ma poi deve accettare la realtà. Lo ringrazia pubblicamente per tutto ciò che è riuscito a portare a termine in questi pochi mesi di guida dell'assessorato e ricorda la riapertura della Pinacoteca Civica, l'iter per riutilizzo funzionale del teatro romano e il rilancio del premio Teramo per un racconto inedito. Certo gli assessori alla cultura al comune di Teramo non hanno goduto di grande fortuna negli ultimi tempi. Sono ancora vive le contestazioni plateali a Francesca Lucantoni, assessore gattiano della giunta Brucchi, per alcune sue scelte di basso profilo culturale e poi ancora le dimissioni del regista Marco Chiarini messo al suo posto ma che lasciò dopo pochi mesi per le forti critiche provenienti dalla sua stessa giunta. Ma tornando ad oggi Luigi Ponziani si dimette senza grandi clamori ma scatena un terremoto sotterraneo che fa tremare il palazzo di città. Tanti gli aspiranti successori alla cultura. L'assessorato dovrebbe però tornare alla lista del sindaco Insieme Possiamo e in quel caso si fa il nome di Francesca Di Timoteo, attuale presidente della Commissione Urbanistica. Dalberto potrebbe trasformare queste dimissioni di Ponziani in un'opportunità decidendo per alcuni cambiamenti. Un mini rimpasto di giunta, forse un allargamento da sei a otto assessori e perché no anche un'apertura ad altri schieramenti civici presenti in Consiglio Comunale. Chi potrebbe entrare in maggioranza? Sicuramente il gruppo che fa riferimento a Mauro Di Dalmazio ma anche Giovanni Cavallari che nonostante si sia candidato contro Dalberto ha spesso in questi mesi appoggiato il programma del sindaco. E mentre la politica si riorganizza la città sembra avulsa dai giochi di palazzo e continua a chiedere risposte su problemi reali ormai non più eludibili. Rifiuti, ricostruzione, infrastrutture.